Il neocomandante provinciale dei Carabinieri di Campobasso Giovanni Di Santo, subentrato al colonnello Luigi Delle Grazia, si è presentato questa mattina alla stampa. Sentiamo. Ascoltare ed ascoltarsi è questo il monito con il quale il colonnello Giovanni Di Santo, nuovo comandante provinciale Carabinieri di Campobasso, si è presentato alla stampa. L'arma deve essere un'arma di prossimità, ascoltarsi, l'ascolto non deve essere ovviamente a senso unico, ci deve essere una condivisione, attraverso questo ascolto magari poter anche intercettare le esigenze senza che ci vengano richieste. Campobasso è una terra preziosa e spero di essere geloso custode delle tradizioni del Molise Tutto e della provincia di Campobasso. Dipendere sicuramente anche l'identità di questo popolo, ovviamente con il mio ruolo di Carabiniere, assieme ai miei colleghi Carabinieri e assieme ovviamente alle altre forze di polizia, al prefetto, al questore, al comandante della Guardia di Finanza. Vorrei conoscere prima queste problematiche, quindi adesso sarei superficiale se parlassi di queste. Seguirò sicuramente le indicazioni del signor procuratore, non vedo l'ora di essere a sua disposizione, ovviamente noi abbiamo un procuratore che è da tempo qui, conosce il territorio in maniera così forte, così importante e un valore aggiunto.